Secondo un'esclusiva del quotidiano Wall Street Journal, alcuni ricercatori cinesi isolarono e mopparono il Covid-19 alla fine del dicembre 2019, almeno due settimane prima che Pechino rivelasse al mondo i dettagli del virus. Lo scoop partirebbe da alcuni documenti che il Dipartimento della Sanità americano ha ottenuto da una commissione della Camera. Queste informazioni non contribuiscono ancora a fare chiarezza sull'origine del Covid, ma due settimane avrebbero forse potuto fare la differenza per contenere la diffusione del virus. Quanto il ricercatore dell'Istituto di Biologia di Pechino aveva già mappato il virus, i funzionari cinesi definivano ancora pubblicamente l'epidemia Wuhan come una polmonite virale di causa sconosciuta e dovevano chiudere il mercato all'ingrosso locale di animali vivi. Dunque due settimane cruciali per aiutare la comunità medica internazionale a capire come si potesse diffondere il Covid-19.